Non basta alla Gasseis Volley Piacenza un eccellente avvio e, complessivamente, una buona partita. Trento è la quarta forza del campionato di Superlega e conferma il proprio valore anche al Palabanca, al termine di una gara combattuta e chiusa dai ragazzi di coach Lorenzetti con il punteggio di 1-3. La partenza della Gasseis è di quelle sprint, 7-0 Biancorosso, con l'ITAS che patisce il servizio di un Korsmanovic implacabile. Trento piano piano risale fino a sfiorare la parità, che però non riesce mai a raggiungere grazie alla coppia Coy-Nelli veramente scatenata. Il primo set si chiude 25-23. La seconda frazione si apre con qualche errore di troppo da parte dei Piacentini. Gli ospiti escono meglio dai blocchi, ma la Gasseis resta in partita e, sfruttando la verve al servizio di Nelli, mette nuovamente la testa avanti. Poi però la squadra di Lorenzetti guadagna un gap che si rivelerà decisivo. Il secondo set va ai Trentini, che chiudono 22-25. Nel terzo periodo Trento mette subito il turbo, Gardini attinge a piene mani dalla panchina, ma non basta. La banda Lorenzetti fa suo anche questo parziale, chiudendo 16-25. Nel quarto set riparte la battaglia e il gruppo di Gardini è bravo a trovare subito una bella reazione. Ancora Nelli, 22 punti complessivi, miglior marcatore dell'incontro, trascina i suoi. Grazie però ad un muro granitico, Trento si riporta avanti, chiudendo 25-21 e guadagnandosi 3 punti. Ora Mirino puntato a Monza, quando, giovedì prossimo, si giocherà il posticipo della sesta giornata di ritorno.